L'America Latina era, come si diceva allora negli Stati Uniti, il giardino di casa degli Stati Uniti. Si sfruttava fino in fondo tutti i beni che questi paesi avevano e li si sfruttava attraverso la instaurazione di dettature feroci in tutti i paesi dell'America Latina. È impensabile oggi ricordare, che un giovane possa ricordare e immaginare quello che avveniva in Cile, in Argentina, in Brasile, in quegli anni, in Paraguay, in Perù. Dittature militari feroci. E quello che si volle colpire in Cile non era tanto il pericolo che poteva rappresentare come paese in sé e che quel modello poteva espandersi. Cioè in sostanza il pericolo era che una possibilità di crescita democratica si sviluppasse in America Latina. Questo era il vero pericolo. Questa era la necessità di intervenire da parte degli Stati Uniti. Per molte di queste vittime non vi è stato mai un procedimento penale che possa accertare in modo chiaro e trasparente a chi attribuire quei sequestri, a chi attribuire quelle torture, a chi attribuire poi la morte. È arrivato il momento della verità e di cercare di far prevalere quelli che sono a mio avviso i valori fondamentali di qualsiasi tipo di democrazia e cioè il rispetto alla vita. È un processo che cercherà di dare risposte a molte delle morti e a molte delle persone che oggi chiedono ancora giustizia. Il Cile rappresentava, rappresentava per l'Italia una sorta di fratello politico, un modello di sviluppo che purtroppo fu per essere un modello democratico represso con la ferocia che tutti conosciamo. Fino a che punto un governo è legittimato a mantenere l'ordine costituito quando questo diventa un crimine e soprattutto lei crede che possa accadere anche in democrazia, magari senza pubblicità? Per quanto possano essere gravi i crimini commessi, per quanto possa essere alto il pericolo della commissione di crimini così atroci non v'è mai giustificazione alla violazione dei diritti fondamentali e quindi alle garanzie processuali. Questo perché se no vorrebbe dire porsi sullo stesso piano di quei criminali che si persegue. Un giornalista mi ha chiesto l'altro giorno che cosa ne pensavo io di una polemica che era, credo, avvenuta a Roma sul fatto che lo Stato italiano, la Procura di Roma, spendesse questi soldi per un processo che ha un costo ovviamente come tutti i processi per fatti appunto accaduti. A cittadini italiani sì, ma che forse non hanno mai conosciuto l'Italia 40 anni fa. Ma io sono parente di una vittima di questa realtà e forse sono una privilegiata. È stato ucciso mio marito in Argentina, padre delle mie due figlie, ma io ho trovato un cadavere. mio marito non è uno scomparso, è una persona che è stata uccisa. Ho sempre ritenuto che era spaventoso questo crimine di far scomparire le persone. Spaventoso, doloroso, una ferita che non chiude mai, una mamma che non sa dove andare a lasciare un fiore ricordando un figlio, una figlia, un marito. Questa è la realtà di quei 40 anni fa. Come facciamo a chiederci oggi se stiamo sprecando denaro? In questo processo, avvocato, c'è anche fra gli imputati un italiano? Sì, c'è un unico imputato italiano ed è il signor Troccoli. Oltre che essere l'unico imputato italiano è l'unico imputato residente in Italia. La singolarità è anche che è l'unico imputato libero qui in Italia. È ricercato in Uruguay dove è latitante e quindi questa è una peculiarità perché mentre gli altri imputati sono per lo più detenuti all'estero e già giudicati, Troccoli non è mai stato giudicato perché si è sottratto alla giustizia uruguayana dove, ripeto, è latitante. Qualcuno l'ha coperto, questo non ci fa onore? Lo dico io, non lo dice lei? Io questo non lo so. So soltanto che è una situazione sicuramente da correggere anche per equità. Ciao!